La terza tappa del Tour de France passa dalla mia Piacenza, ma non sarò io a raccontarvelo. E zitti, Piacenza non ha ignorato i social per il Tour de France. Cre, per i social, accorso in noi. Per i piacenti, che è appena due montagni, la monta di Ratt e il Mont Pirlon. So fecchimo. Ciao, sto cercando l'installazione del Tour de France, per il Tour de France, ma a me va nienta? Ma è solo di sera, però. E adesso cosa fai a finire stasera? Vengo un caffè! Ci penso io, ti porto a assaggiare la focaccia più buona, anche in Piacenza. Scommetto che siete venuti a provare la focaccia Vucecicatrendeneuve, il mio omaggio per il Tour de France. Bello, questo bel colore giallo, du letto a te. C'è un ingrediente segreto che ho trovato in Valtidone. Se vuoi scoprirlo, seguimi sui canali social. Buonissima, ma dopo l'aperitivo, se vuoi su un piatto a tourtei, ma a me sono mia buona. Ti porto nel posto giusto e ti fai che parla a me. Ma cosa ci fate qui? Patrizia, fai parla a fare tourtei con la cua. Dove, se non a Loyal? E adesso in dove vai, viadrò? Tal, digmi. E' stato bello raccontare la nostra città? L'è proprio bella la nostra Piazessa. E allora facciamo, aspettando il Tour de France a Piazessa. Grazie. 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 Grazie.